E' il 5 febbraio del 1597, a Nagasaki 26 croci vengono erette per giustiziare chi non ha voluto abbiurare la fede nella parola del Signore. Tramonta così nel sangue la prima fase dell'evangelizzazione cristiana in Giappone, iniziata mezzo secolo prima con la predicazione di San Francesco Saverio. Questa è la storia del film I 26 martiri del Giappone, del regista Tomiyasu Ikeda, una pellicola degli anni 30 riemersa per caso alcuni mesi fa dagli archivi della congregazione salesiana, restaurata e presentata in Filmoteca Vaticana proprio in occasione della commemorazione del supplizio. Una vicenda, quella raccontata nella pellicola di Ikeda, che anticipa i fatti descritti da Martin Scorsese nel suo ultimo film, Silence, ambientato in Giappone 40 anni dopo. L'opera, una versione in 35 mm in nitrato, è stata digitalizzata e scannerizzata in 4K dall'archivio nazionale cinema d'impresa di Ivrea, un'operazione come ci spiega il suo direttore Sergio Toffetti, che ha comunque lasciato intatta l'identità di un documento storico unico nel suo genere. Quando si parla del restauro il problema non è mai dove si arriva, ma sempre da dove si parte. Non è che la venere di Milo è mal restaurata perché non ha le braccia, non ha le braccia. Diciamo che quali sono qui la mancanza delle braccia. Prima ci sono tantissime righe, ci sono macchie, ci sono spontinature, ci sono delle righe che attraversano tutto il fotogramma. Per cui io sono anche poi dell'idea che è bene che i film, che in genere i manufatti da artistici, mostrino le tracce del loro tempo, cioè non siano rifatti nuovi. Il film è piuttosto bello, è stata una sorpresa per tutti perché al di là del tema, diciamo, devozionale, è veramente un classico film storico giapponese, un film che è all'altezza di Kurosawa, di Mizoguchi, quindi di grande spettacolarità. La pellicola di Ikeda della durata di un'ora circa immerge il pubblico fin dal primo minuto nel feudalesimo giapponese grazie a suggestive sequenze descrittive di paesaggi urbani e naturali. La pacifica predicazione del Vangelo da parte del francescano Pedro Bautista con cui comincia il film trova in breve tempo nella diffidenza del governatore Toyotomi Deyoshi un oppositore feroce e sanguinario. Suo è l'ordine di dare inizio alla persecuzione dei cristiani e di crocifiggerne 26, tre gesuiti, 17 terziari e sei francescani. Con noi Don Francesco Cereda, vicario del rettor maggiore dei salesiani. Certamente questo tema dell'incontro delle culture, soprattutto le culture antiche, raffinate, che hanno una tradizione anche culturale profonda, risulta essere difficile. Parlo per esempio dell'esperienza che abbiamo avuto, diciamo tardiva rispetto alle esperienze precedenti riguardanti o Francesco Saverio per il Giappone o Matteo Ricci per la Cina. Quando come salesiani siamo arrivati in Giappone la via di accesso del Vangelo è stata la musica, la musica classica, la musica italiana, molto apprezzata da queste culture. Di fronte al gusto artistico, alla bellezza, pur esprimendosi in forme differenti in Oriente e in Occidente, è certamente un punto di contatto perché l'arte tocca le note profonde dell'anima e ispira il sentimento religioso e apre quindi al Vangelo.